Il primo tempo con quel palo che ti potrà portare il vantaggio per oggi decisamente rispetto a questa scala, una forza di due passaggi. Il primo tempo oggi è stato fatto, abbiamo avuto delle occasioni, purtroppo non siamo lasciati andare in vantaggio. Il secondo tempo dopo il vantaggio loro pensi che siamo andati anche a livello mentale, non si non abbiamo avuto una relazione. E niente, è stata una buona sconfitta, peccato, nuovo pescardo, buona vittoria. Sì, è stata una buona sconfitta, è stata una buona sconfitta, è stata una buona sconfitta. Grazie. 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 Grazie a Roberto Lettieri, il saluto al suo studio con Anna Filoni e i suoi ospiti.